Buongiorno a tutti, oggi vorrei condividere con voi un metodo per unire dei file video in un unico file. Poi mi direte, ma che c'entra questo col backgammon? In realtà, chi come me registra le sue partite con una action cam, sa benissimo che questi apparecchi, o almeno la maggior parte di questi apparecchi, suddivide i file in tronconi da 15 minuti, 25 minuti, dipende dalla risoluzione che usiamo. Quindi, che succede? Che una partita richiede magari tre, quattro file diversi. Se ad esempio la pubblichiamo su YouTube, chi la vuole vedere, anziché richiamare un unico video, deve richiamarne tre o quattro diversi, uno dietro l'altro. E non è una cosa assolutamente simpatica. Il metodo è molto semplice, ma senza tante chiacchiere passiamo subito a spiegarlo. Allora, per prima cosa dovete scaricare un programmino che gestisce audio e video, totalmente gratuito, che si chiama FFMPEG. Quindi cercate su Google e lo scaricate sul vostro computer. Questo è il primo passo. Secondo passo è quello di preparare in un file di testo la lista dei file da unire. Quindi, ad esempio, vedete, sotto in nero appaiono tre righe, supponendo che ci siano tre file da unire. Quindi i comandi sono file, spazio e poi tra apici, il nome del primo file con tutto il percorso. Vedete, ad esempio, c2.slash, attenzione, non backslash, videos, slash il nome del file. Questo è un nome tipico che dà, ad esempio, l'action cam che uso io. Seconda riga, secondo nome di file, terza riga, terzo nome e basta. Tutto qua. Poi salvate, lo chiamate, ad esempio, io lo chiamo lista.txt e siete pronti. Poi dovete aprire la finestra del prompt dei comandi che trovate nella lista degli accessori di Windows. Infine, dovete dare il comando vero e proprio che svolge il compito, cioè unisce questi file e produce un unico file. Il comando è quello che vedete, c2.slash, ffmpeg.exe, qui dovete scrivere il percorso esatto in cui avete posizionato il file eseguibile, spazio trattino fconcat, spazio trattino safe, spazio 0, spazio trattino i, spazio lista.txt, oppure il nome che avete dato al file con i nomi dei diversi file video, spazio trattino c, spazio copy, spazio e il nome del file di output, quindi il nome che il programma creerà con i diversi file video uniti, concatenati. Io l'ho chiamato out.mp4, lo potete chiamare come volete. Quindi con questo comando viene creato il file che è l'unione dei diversi file e potete ad esempio caricarlo su YouTube come file unico. Quindi direi è comodissimo, semplice da usare ed è molto comodo anche per chi guarderà i vostri video. Vi ringrazio dell'attenzione e arrivederci alla prossima. Anzi, due ultime osservazioni. Qui il comando appare su righe diverse, ma in realtà è un'unica riga, semplicemente non ci stava su un'unica riga. E infine, per qualunque dubbio, scrivete i vostri commenti o le vostre domande nello spazio apposito del video di YouTube. Arrivederci ancora. Grazie. Grazie.